Abbiamo parlato, ma in questo momento ancora hanno mandato via Sari, ma veramente non abbiamo parlato. Lui sa che io ho la voglia di allenare Lazio in un giorno e questo lui ha avuto la decisione. Adesso ho fatto un'altra scelta, ma come calcio un giorno forse sarò allenatore della Lazio. Chissà, è la vita.